Eccoci con Filippo Ferronato del Cyclic Team Friuli, reduce da una grandissima prestazione alla 6 giorni di GAN. Filippo, raccontaci un po', com'è stata questa manifestazione per te? Questi 6 giorni è stata un'esperienza incredibile, siamo riusciti a imparare un sacco di cose e penso che sia come l'università del ciclismo su pista. Tu e il tuo compagno Cavicchioli siete andati molto forti e vi aspettavate il quinto posto finale? Il quinto posto diciamo che come risultato ce lo potevamo aspettare, ma più che altro quello che non mi aspettavo è essere così competitivi subito dal primo giorno, che l'anno scorso abbiamo fatto molta fatica, l'anno scorso l'ho fatta con Donnega, soprattutto nei primi giorni non riuscivamo a stare il passo con le altre coppie, soprattutto nella Madison, invece quest'anno già dal primo giorno eravamo lì con i migliori. Che differenza avete riscontrato con le altre coppie, in generale con le altre nazioni in gara? Con le altre coppie quest'anno ci siamo trovati abbastanza bene, mentre l'anno scorso eravamo un po' carenti di esperienza. E se quest'anno con un anno in più siamo trovati molto più competitivi, quindi siamo riusciti subito ad essere lì. Qui hai corso con la maglia della nazionale, ma il prossimo anno correrai per il Segri Team Priuli, che sarà una squadra continuita, quindi ti capiterà anche di incontrare professionisti in gara. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Diciamo che già dall'anno scorso, pur non essendo Continental, siamo riusciti a svolgere molte gare all'estero e anche a correre insieme alla squadra professional. Quindi quest'anno, essendo Continental, speriamo di ampliare ancora di più questo calendario e l'obiettivo è quello là di farsi vedere le squadre professionistiche per riuscire a passare tra i professionisti e magari di vincere qualche gara, visto che quest'anno non ci siamo riusciti. Grazie Filippo per il tempo che ci hai dedicato e buona fortuna per il proseguo della tua attività. Grazie.